Diarrà, Mamona e Lenoci regalano la seconda vittoria a casa l'inca consecutiva lavastese al Tolentino, sempre in partita fino alla fine non basta la rete di Tortelli. Nell'economia della gara pesa come un macigno il rigore sbagliato dall'ex Padovani. Con le immagini di D'Odoardo D'Addario andiamo a analizzare i momenti salienti del match. Nei biancorossi tutti presenti ed eccezione di Valerio Sorgente e Meola, quest'ultimo non al meglio. D'Addario si affida un 4-3-1-2 con Martinez a supporto del 2 Mamona e Franzese. I marchigiani vengono dal pareggio per 2-2 con il Castelnuovo ma non vincono da ben 115 giorni e devono recuperare tre gare tra cui quelle con Campobasso e Notaresco. Mosconi manda in campo un 3-4-2-1, partono dal primo gli ex Pagliari e Padovani. Le due squadre partono al piccolo trotto, la prima occasione per gli ospiti al 17esimo difesa biancorossa messa male e Severini in acrobazia manca il gol di un soffio. La risposta della vastesi arriva al 25esimo con De Angelis che non trasforma uno quasi rigore in movimento. Il numero 5 la piazza con il piatto ma la conclusione sporca impatta sul palo. Gli aragonesi continuano a spingere al 33esimo, c'entrano un secondo legno, questa volta è franzese a provarci di testa su assist di Martinez. Al 35esimo punizione valenosa del numero 10 di casa, l'estremo ospite in tuffo respinge. Al 44esimo problema muscolare per Altobelli che lascia il campo al suo posto, entra Capitanio. Tatticamente non cambia nulla al 46esimo, fucilata da fuori di Padovani. Di Rienzo risponde presente, da qui a fine primo tempo non succede altro. Nella ripresa avvio al rallentatore sulla falsa riga del primo tempo. L'avastese si rende pericolosa al 15esimo con un colpo di testa di De Angelis. Su assist di Martinez, palla alta sopra la traversa, passa un minuto e i biancorossi vanno in vantaggio dopo una bella azione corale conclusa da Diarrà al suo secondo gol stagionale da quando è arrivato tra le fila degli aragonesi. Il Tolentino accusa il colpo e al 19esimo incassa la seconda rete. Di Prisco vola in contropiede e pennella per Mamona che di testa da due passi fa 2-0. Nemmeno il tempo di gioire che i marchigiani accorciano le distanze con Tortelli che da solo incorna e batte Di Rienzo per il 2-1 dopo un assist con il contagiri di Ruggeri. Al 28esimo episodio dubbio in area avastese di all'otto a Severini il direttore di gala Ilaria Bianchini di Terni indica il dischetto, questo il contatto sul punto di battuta va Padovani che angola troppo e c'entra il palo. Al 48esimo in contropiede i biancorossi calano il tris con le noci che con un palonetto da centrocampo quasi batte il portiere marchigiano in uscita disperata 3-1 e partita finita e l'ultima azione della gara. Gli ospiti ci hanno provato fino alla fine ma senza fortuna e convinzione la avastese agguanta 3 punti pesanti e sale a 18 in classifica. Mister D'Aderio, ottima prestazione della sua avastese, una squadra in crescita? Ottima insomma c'è da dire diciamo discreta sotto il profilo tattico è stata buona sotto il profilo delle realizzazioni e del cercare di realizzare anche questo mi è piaciuto però dobbiamo crescere in tante situazioni perché abbiamo preso un rigore da fallo laterale e dobbiamo stare attenti a tante cose però è stata una risposta anche fisica, 18 giorni e 6 partite sono tantissime e la squadra ha risposto bene ma soprattutto bene nell'interpretare quello che doveva fare oltre ad essere fisicamente attenti e attivi, ero molto preoccupato. Interessante la posizione di Martinez dietro le punte? Abbiamo variato perché con loro dovevi giocare con tre attaccanti, dovevamo variare la posizione per creargli qualche difficoltà contro i tre perché tre contro tre sono molto aggressivi, molto determinati quindi sarebbe stato più difficile trovare lo spazio così invece ci siamo riusciti. Da valutare l'infortunio muscolare ad Alto Belli? Sì, penso che sia di poca entità da quello che mi dicono, speriamo bene perché insomma Capitani ancora non è al 100% e anche se oggi è risposto attivamente per la sua serietà, professionalità e anche per il suo temperamento. Mister Mosconi ha la caccia di una vittoria che manca da troppo tempo però oggi contro la Vastese siete stati in partita fino alla fine? Sì, sì, purtroppo l'episodio ci ha penalizzato, quando dopo riusciamo a fare i coso rigore era un'altra partita. Siamo stati bravi a stare in partita finale, sì, alla fine abbiamo reagito da grande squadra sul doppio vantaggio, siamo stati bravi, abbiamo iniziato a giocare a calcio, purtroppo in questo momento ci gira male, ci gira male però devo stare compatti, lavorare, prima o poi gira. Avete diverse gare da recuperare, due contro avversari ostici come il Campobasso e il Notaresco? Sì, sì, per noi sono tutti ostici, perché noi siamo tra virgolette gli ultimi degli ultimi, noi abbiamo già sui principi nostri, col cuore, perché tutti hanno rose tra virgolette superiori alla nostra, però quello non deve influenzare, questo è il nostro sogno di riuscire a fare la salvezza e si fa soltanto lavorando e non essere morti. Dispiace perché la squadra è viva, non merita pure oggi perché sia stata una sconvitta immeritata, però quando ti gira male è così, dobbiamo evitare di fare i danni, stare tranquilli, combatti, società, staff, tifosi e i campionati non finiscono adesso, finiscono, è lunga, siamo anche a fine giorni d'andata, perciò c'è tante gare da fare e tanti punti da conquistare.